Bella vecchia ragazzi siamo tornati con un nuovo video oggi Dato che ci è stato detto che noi siamo su Hakinator Ci vogliamo trovare Ah si? Stiamo su Hakinator? Ce lo sapevo Ci hanno detto che siamo su Hakinator quindi Cosa facciamo oggi? Ci cerchiamo su Hakinator E dopo di che cerchiamo anche altra gente Dai Scusate L'acqua Ci siamo Io voglio vedere se me trova Età Età 20 Il suo personaggio di Nazionale Italiana? No Non lo so No Si? Eh no Io non so temazione di Nazionale Italiana Vabbè noi siamo italiani dai Il suo personaggio è stato famoso grazie a Youtube? Si ci ha già sgamato E' di Roma? Si E' Dread E' Coltread Stanzia la violetta non è il vostro Agotex Stanzia la violetta? Si Il suo personaggio gioca a video Gira video su FIFA Gira video su FIFA Giriamo noi video? Si Ogni tanto Posso girare la telecamera? Si mettiamo tutto sopra Capito quando ci capita Allora Si Grasso Un pochetto Però no non sono Frax Il suo personaggio è un fratello? Io si Se no Io no Famo no Non lo so dai A meno che non ci hanno messo da fratelli Famo non lo so Non siamo fratelli A che fare con me la Codo? Ecco questa Questa è proprio Probabilmente Eh si Cioè Poi Porta spesso camicia quadri? Questa è Dread? Si Questo è Dread Cioè pure io però Poche volte No Lavora in coppia? Forse si sta avvicinando Vediamo Guarda come fa Si Vediamo Ma come? Time to challenge Probabilmente Probabilmente no Sto personaggio ha che fare con Pond Tu si No io no grazie No Ciao Sto personaggio è di origine Toscana? Io si Mia madre è Toscana Ok Però no Dai Allora Che succede amico? Ma che Bugs Bunny Ma che cazzo Super personaggio per caso dice Che succede amico? Caga Caroda No No Super personaggio fa parte di Crookids Si io sono Crookids Direi di no Femmina Oh no Porca puttana Seguito da un gatto Che cazzo Si sono Tom Sono Jerry Il massimo da un coleglio No No Ah pure si Io ho pubblicato Vabbè ma non lo sa nessuno Super personaggio è famoso grazie a Minecraft No Super personaggio ha due canali youtube No Ma stai sicuro che stiamo giochendo? Sto pensando a Nessuno Ottimo Allora Eccoli Granas Ah grande Grazie Ma se foto è merda Però pazzo potete mettere una foto meglio Stronzi No Fatti Brutta brutta Ma c'è già ci stiamo trovati Con tutto che abbiamo messo che uno è Toscana Si Infatti Boh Vai Come no Mi sono sbagliato Ma che cazzo stai In via Sto a pensare a nessuno Pensiamo a nessuno E' di nazionale italiana No Super personaggio è reale No Super personaggio è parte No 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 Super personaggio abbaglia Sì Una cagna Si ha ragione No 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 La morte La morte No Sì Sì No 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 Ma sciniva Scritto No 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 Un giocatore che non è d'accordo Un ragazzo sveglio che risponde sempre no 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 Cerchiamo Jinx di League of Legends Dai Allora Domanda numero No Hai capelli? Sì Hai capelli blu? Sì Combatte? Sì Stacca da sotto Che cazzo ha fatto? Alle trecine Oh Eccola All in Trovata Grande Grande Non lo facciamo tipo in Un polaco Così Probabilmente Sì No Sì No Non lo so No 160 sì No 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 Sì Sì Decisamente sì Proprio Non lo so questo Questo probabilmente Sì Questo sì Sì Concorso Sicuro H C'ha a che fare con gli hotel Sì Tra parentesi Egiziani Non lo so Questo No 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 Questo sì Sì Giusto Che butta cosa è accaduto Questa 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 Sicuro Ci tovi a posta Ma che cazzo Perché vi dice sempre Ci tovi a posta Il tuo personaggio Ah ci tovi a posta Ma ho becni è buona Ci tovi a posta C'è Pafidina Sì Ci tovi a posta C'è Palaunenia Che cosa hai letto Pernolentnia Ci tovi a posta C'è Ma Slevanego Ojika Ci tovi a posta Dragovski Vabbè Ragazzi anche il polacco L'abbiamo fatto Soprattutto in cinese È stato molto Emozionante Mentre lui continua a cercare Lewandowski In polacco Io vi saluto E vi ringrazio Noi ci siamo Su Wakinator Voi no Noi ci siamo Su Wakinator E grazie a chi ci ha giunto E chi Ci ha sempre creduto In noi E sempre Ci ha creduto Perché oggi Andiamo a rivincere Perché finalmente Siamo su Wakinator E quindi Possiamo anche smettere Di fare Youtube Con grande gioia Di qualcuno Ma comunque Lasciamo 10.000 like Se questo video vi è piaciuto Noi ci becchiamo Come sempre al prossimo Lasciate un like Qua sotto ci sono i nostri Instagram E niente Bella Bella